Non serve! 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 Sto proprio da Dio! Non serve! Cosa cazzo è? Non serve! 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 Faccio sempre i complementi a tutti! Ah! Quindi loop è gestito da una zona di controllo. Fin troppo facile! Mmm! Davvero troppo! Cosa? Ma stiamo scherzando? E allora fate un buco nella testa di voi! Utile per il fai da te, o per colpi silenziosi e pneumatici. Speriamo non si accordi. Ehi! Speriamo non si accordi. Speriamo non si accordi. Speriamo non si accordi. Merda! Un rimedio rapido! Ma che cazzo! Torno subito! Oh, cazzo! Tutti via! Ecco a te! Merda! Devo ricaricare? Capri! Ricarnico! Ricarnico! Oh! Oh! What the? Oh! 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 Quelle gallerie che corrono sotto l'intera isola. Sì, ci arriverò così al complesso. Come and get to sleep! Sì! Sì! Oh, ma... Sì! Sì, sì, sì! Sì! Grazie a tutti. 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 Come la mettiamo con questo? Che esco con la gente sbagliata! Ok. Centro di controllo. Spegnere. Freestad, Abdam... L'intero posto è collegato da queste gallerie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti